Cari amici, io vengo dalla lettura degli atti che il Presidente del Consiglio, Conte, dice di aver desecretato dopo averli segretati, dopo aver chiesto la conferma della segretazione al Consiglio di Stato per mettere nel nulla la decisione del Tar del Lazio che gli aveva ordinato di consegnare il tutto alla Fondazione Einaudi che poi sarebbe stata la fonte delle consapevolezze per tutti noi. Questa lettura è semplicemente sconvolgente, gli atti che sono stati desecretati sono esattamente quelli che tutti quanti noi conosciamo, gli atti che sono stati desecretati riguardano soltanto il periodo che va dall'inizio di marzo quando fu introdotto il lockdown e fino a quando il lockdown c'è stato e anche rispetto a qualche periodo successivo. Tutte cose che sapevamo, che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, che ci sono state ampiamente comunicate, quindi se questa è la desecretazione possiamo dire francamente che la desecretazione non c'è stata perché siamo stati presi in giro e ci hanno dato soltanto le carte che già conoscevamo perché la stampa le aveva ampiamente pubblicate. Che cosa non c'è in questi atti? Non c'è in questi atti tutto ciò che riguarda quello che è accaduto nei giorni immediatamente precedenti, il 31 gennaio, quando è stata istituita l'emergenza per motivi sanitari, dopo che l'aveva fatto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità e non c'è tutto quello che è accaduto nel mese di febbraio, quel mese di febbraio nel quale nonostante tutte le indicazioni volessero e obbligassero a mettere immediatamente in funzione il lockdown, invece tutto questo non è stato fatto. Questa omissione, che è poi quella sulla quale sta indagando il Tribunale dei Ministri di Roma, è stata la causa del contagio esponenzialmente aumentato, è stata la causa delle migliaia di morti che appunto sono stati trattati nei vari ospedali dove non c'era posto e non c'era possibilità di curare, che sono stati fatti morire nelle ambulanze, che sono stati sedati per farli morire, che sono stati intubati quando non dovevano essere intubati, che quando sono morti sono stati cremati per non fare le autopsie dalle quali sarebbe uscita fuori la verità sugli errori medici che si stavano consumando, tutto quello manca. Tutte queste cose sulle quali naturalmente era più forte l'attenzione, anche perché c'è un procedimento penale pendente nei confronti di Conte e di Speranza, come ho ricordato prima davanti al Tribunale dei Ministri di Roma, tutte queste cose mancano nella maniera più assoluta. Quindi questo è il dato di fatto con il quale ci dobbiamo confrontare, questa è la situazione nella quale ci ha costretto questo governo, a me non interessa il colore politico, mi interessa soltanto di dire che io volevo sapere, tutti avremmo voluto sapere perché e con quali decisioni e sulla base di quali supporti Conte aveva ritenuto di non adottare alcuna cautela o cautele molto blande in quel periodo di tempo e invece si sono accatastati i morti, si sono accatastati i contagi, è successa quell'ira di Dio che tutti quanti conosciamo. A questo si aggiunga che mancano tutte le indagini e analisi effettuate per giungere, o meglio per non giungere, ad applicare le zone rosse dovevano essere applicate e in particolare mi riferisco alle zone di Nembro e di Alzano Lombardo, rispetto a queste sulle quali come si sa si discute perché si contesta che sia stata istituita la zona rossa soltanto in tempi molto successivi a quelli che erano stati concordati e a quelli che erano stati rappresentati alla regione Lombardia su questo totalmente silenzio assoluto. Silenzio assoluto infine su tutto quello che ha riguardato le RSA e di cui sappiamo che sono state la sede dello sterminio di una generazione di persone anziane. Poi voglio dire anche un'altra cosa che emerge dall'analisi di questi atti. Quando si è trattato di prendere in considerazione le varie zone, parlo della Sicilia, parlo dell'Emilia Romagna, nelle quali si trattava di assumere particolari cautele perché la situazione, i famosi cluster di cui si parla molto anche oggi, anche lì su questa tematica non c'è assolutamente nulla che viene dato come documentazione sulla base della quale tutto sarebbe stato deciso o meglio tutto non sarebbe stato, non è stato proprio deciso. Quindi veramente siamo in una situazione nella quale ci hanno preso in giro, cioè ci hanno preso per i fondelli. Io non sono abituato ad usare parole volgari, però capite che cosa invece vorrei dire. Ci hanno preso per i fondelli, ci hanno dato questo contentino e del resto, scusate, se fino a questo momento questo signore ha fatto la battaglia per non consegnare la documentazione, è evidente che la battaglia la si fa quando i documenti scottano, i documenti sono pericolosi, i documenti ti incastrano su determinate responsabilità. Stranamente questi atti sono tutti tranquilli, sereni, sono gli atti come ho detto all'inizio che noi perfettamente conoscevamo, che abbiamo saputo da tutti gli organi di stampa, quindi sostanzialmente una truffa vera e propria consumata dal governo italiano nei confronti dei cittadini italiani. Ancora una volta io dico che sono, non posso dire sorpreso, perché sappiamo con quale magistratura abbiamo a che fare, ma io non riesco a capire come la magistratura italiana possa assistere a questa situazione vergognosa nella quale ci ha infilato questo governo, che è costata morti, che è costata sacrifici, che è costata miseria, che è costata i dolori che tutti quanti conosciamo. Ma è possibile mai che la magistratura non vada lì a Palazzo Chigi, rompa le scatole, rompa i giocattoli e sequesti tutto quello che c'è in modo tale che si possa fare chiarezza su tutto. Perché la magistratura non si muove? Fatemi capire perché non si muove questa magistratura. Io non riesco più a dire altro se non ad inveire rispetto a queste problematiche. Mi meraviglia poi che in tutta questa situazione ci sia un capo dello Stato che non abbia il minimo di sensibilità. Lui che ha avuto dolore in famiglia, gli hanno ucciso il fratello, i mafiosi, quindi sa che cosa significa perdere persone care nelle famiglie e quant'altro. Non ha l'idea nemmeno di poter alzare un dito per dire qualche cosa a questo signore che è diventato un vero e proprio usurpatore. Conte è un usurpatore, non sappiamo da dove viene, non sappiamo che cosa può fare, non sappiamo che cosa vuole fare, non sappiamo che cosa gli si vuole far fare. è una situazione veramente ormai divenuta insopportabile. Ma noi sopporteremo perché siamo pecore, perché abbiamo capito che non siamo più cittadini, ma siamo servi del potere, servi della politica, servi dei governi e quindi subiamo tutte queste angherie. Questa è una vera e propria angheria, quella di avere preso in giro gli italiani pubblicando atti ben conosciuti e omettendo di pubblicare quello che si voleva e si sa che è sicuramente agli alti e cioè quanto accaduto nel periodo dal 31 gennaio ai primi di marzo. Mi auguro che ci si dia tutti una mano per cercare quanto meno di capire e se dovesse venire fuori una iniziativa che in qualche modo possa bloccare questa situazione, ritenetemi sempre dalla vostra parte. Buona serata.